Il nome Operazione Verità la dice lunga su quelle che sono le intenzioni del sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. Un elenco dettagliato di quelle che sono state le spese in poco più di sei mesi di amministrazione con un confronto a sondi numeri con quelli che erano i conti della giunta di Mattia. Per Maragno le accuse dell'opposizione si sono rivelate infondate e strumentali. Per lui i conti dicono altro. Questa conferenza stampa di oggi è stata convocata proprio per dimostrare con i numeri alla mano, quindi nero su bianco, tutte le infondatezze delle accuse pretestuose fatte dall'opposizione. Questa amministrazione non ha aumentato di un centesimo la tassazione. Conti alla mano dunque qual è la situazione? La situazione è che noi ci troviamo in una situazione di crisi gravissima perché abbiamo un deficit strutturale ereditato da precedente amministrazione che oggi ci fa purtroppo non dormire sogni tranquilli perché abbiamo 65 milioni di euro di debiti. Non sappiamo se rispetteremo il patto di stabilità a fine anno perché al 30 giugno ci hanno lasciato fuori al patto di stabilità per oltre 11 milioni di euro. Oggi dimostreremo ancora una volta che da quando ci siamo insediati abbiamo tagliato tutti quanti i costi, i costi della politica, abbiamo tagliato i costi di gestione, abbiamo tagliato i rami secchi di questa amministrazione e continueremo su questa strada. Per questo dunque operazione verità? Sì, permette al cittadino in una condizione di valutare criticamente e asetticamente la verità dei numeri, tant'è che noi daremo la possibilità ai cittadini che vogliono approfondire questo di potersi recare direttamente qui in comune e di chiedere, di poter verificare la documentazione e gli sarà offerta tutta la documentazione perché è anche giusto dire ai cittadini così come stanno le cose. Abbiamo trovato un comune ad un passo dal dissesto e stiamo cercando di risolvere le problematiche senza aumentare la tassazione. Sarà molto difficile risolvere queste problematiche perché sono problematiche davvero molto gravi, però ci metteremo tutto l'impegno.